Dopo la lettura un po' sonnacchiosa di prima, avrei pensato, se avete voglia, che potremmo fare un kit della buonanotte. Allora, ho disegnato tutto quello che mi porterei a letto, per esempio io voglio sempre ascoltare la musica, leggere un libro, mi serve un bicchier d'acqua, ma anche va bene qualcosa di fantasioso, per esempio un tappeto volante per i viaggi di sogni, quello che volete. La cosa più poi da fare è prendere un cartoncino colorato, un foglio, e piegarlo a metà, per fare il contenitore. Questo poi lo tagliamo, questo foglio, così. E vi fate aiutare da qualcuno dei vostri genitori, o comunque da un adulto, per tagliare un quadratino in mezzo al dente centrale che è rimasto. Ecco qua. Il nostro kit della buonanotte. Ritagliate, dopo averle colorati, tutti gli oggetti che volete portarvi con voi durante i vostri sogni d'oro, e alla fine li incollate all'interno della valigetta. Buonanotte. 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 Buonanotte.